Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi primo marzo e venerdì. Oggi è uno di quei giorni in cui io dovrei essere pagato per quello che faccio, nel senso questa zuppa che nasce il primo ottobre del 2015, oggi è faticosissima perché leggere i giornali non dico che ti fai due palle così, ma forse ancora di più. Sono dei giornali noiosissimi, non c'è un'idea, non c'è un'intuizione, non c'è un grande reportage, un piccolo reportage. Mi sono buttato a capofitto l'intervista a Claudia Mori, Claudia Mori, una che non dovrebbe parlare neanche con la Gazzetta de Parma, ma ovviamente dopo il flop di Adrian, purtroppo, su Canale 5, poteva essere interessante la sua intervista rilasciata a Dario Cristodina sulla Repubblica, noiosissima, c'è un po' di frecciatine alla Hutzinger, qualcuna anche meritata, quando si parla del sessismo che avrebbe Adriano nei confronti della Hutzinger, qualcuna a Milo Manara, ma poi tutta una roba piuttosto ridicola, insomma, non è neanche divertente l'intervista a Claudia Mori. Sulla politica, ragazzi, non ne parliamo, perché sulla politica c'è tutto il contrario di tutto. Oggi è la giornata in cui la TAV si fa, è una mini-TAV, non si riesce a capire perché l'analisi costi e benefici passa da una pede di 7,5 miliardi a 3 miliardi, ma stiamo parlando di cose noiosissime, perché il giorno prima c'era, il giorno dopo ci sarà, di maio ci sta, c'è l'indischezione sui giornali, per cui entro il, che è una cosa importante, entro l'11 marzo si devono fermare i contratti, se no perdiamo 300 milioni di euro sulla TAV, dal parte della comunità europea, e beh, insomma, questi 300 milioni di euro potrebbero essere presi anche se tu fai gli appalti entro l'11 marzo, e poi dice Toninelli hai sei mesi per cancellarli, insomma, siamo nel ridicolo, ma ancora più ridicolo che cos'è? È il fatto che parliamo di questa roba ormai da due mesi, o la facciamo o non la facciamo, facciamola, mi auguro. La stampa ovviamente sta con la TAV, e invece tutti gli altri giornali pure, meno della stampa, e invece il fake quotidiano oggi è l'unico giornale che non racconta in prima pagina quello che tutti gli altri giornali danno per assodato, e cioè a Hug, Giorgio, ci sarebbe un accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle per fare questa TAV ridotta, in cui il mediatore sarebbe Conte. Apro una parentesi e chiudo una parentesi, ma avete visto le ultime immagini di Conte? Ciao Laura, Conte sembra uno che adesso inizia a crederci davvero, l'altro giorno è uscito da Palazzo Chigi, poi è ritornato indietro, ha fatto il buffone, lo spiritoso, con questa sua... Cioè, tra un po', come si suol dire, si rischia di aver creato un mostro, cioè è chiaro che di quelli che contano sono Di Maio e Salvini per evidenti motivi, perché sono i due azionisti della maggioranza che sorregge questo sconosciuto, ma questo sconosciuto che fa il giro del mondo, che stringe quattro mani, fra un po' inizierà a credere che è tutto merito suo. Ma andiamo avanti. Di altre cose politiche c'è un'altra cosa noiosissima, noiosissima, che è questa roba sulle autonomie. È ovvio che è importante, ma ci sono i meridionali che sono preoccupati del fatto che queste autonomie gli faranno un mazzo così. I lombardi che dicono senza le autonomie continuiamo a dare i soldi al sud e non riusciamo a risolvere la nostra condizione di un'ipertassazione. Insomma, oggi forse l'ho presa male, ma anche sulle autonomie mi sono rotto le scatole. È una cosa che è fatta, diciamo, la solita cosa, cioè qualcuno ne vuole, qualcuno no. L'altra cosa che invece oggi diremo, come posso dire, gioire, è che qualche anno fa per le primarie del PD avremmo avuto 10 pagine, 42 pagine su chi si scontra, chi è contro Renzi, chi è con Renzi, eccetera. Sapete che cosa vi dico? Non c'è più nulla. Tranne Repubblica, tranne Repubblica, che ancora dedica pagina 2 o 3 al scontro sulle primarie, che sarebbe a tre Zingaretti, che è quello che vince, Martina e Giacchetti, che sono gli altri due, e tranne forse Sky, che continua a fare questa specie di, come la chiamiamo, questo confronto a tre, che però ti viene da ridere, perché quando tu pensi i confronti a tre di Sky, i confronti ai grandi, i confronti a tre, pensi, non so, Trump contro Hillary Clinton. Qua vedi sti sgabellini tristi che non mi sederei neanche al bar qua sotto, cioè se mi dicono, vieni al bar a sederti in questo sgabello, dico, ma ragazzi, trovami uno sgabello un po' più comodo, in cui vedi Giacchetti, in cui vedi Martina, un quarantenne che sembra, è simpatico, un bravo ragazzo, ma che ne sembra un settantenne, e poi ti vedi Zingaretti, che forse è l'unico simpatico, che è l'area simpatica, è l'unico che vuole sostanzialmente distruggere il PD, perché lo vuole portare in braccio al Movimento 5 Stelle, o distruggere il Movimento 5 Stelle facendolo entrare nel PD, quello che volete voi. Ma un tempo questo era il tempio della discussione, le primarie del PD, oggi ce ne votiamo, sono talmente irrilevanti, che è come raccontare, non so, quello che pensa Renzi o Laboschi, che oggi hanno peso all'interno del partito e fuori pari a zero. Autoscontro il titolo del giornale? Beh, perché questa forse è una notizia, cioè da oggi ci sono i bonus e il malus sulle auto, funziona così, ci sono bonus fino a 2.500 euro sulle auto che consumano, scusatemi, sulle macchine a basso inquinamento, mentre malus fino a 2.500 euro sulle macchine ad alto inquinamento, e ci sono bonus fino a 6.000 euro se si sottama la propria vecchia macchina ad alto inquinamento, se prendi una macchina a basso inquinamento. Ho fatto un casino, ma il casino che sto facendo io è nulla rispetto al casino che c'è per i concessionari, cioè sostanzialmente siamo in un mercato difficile, non si vende un'auto, è un mercato che vale il 7% del PD italiano, tra produzione, distribuzione e post vendita, cioè è una roba mostruosa quanto vale il settore dell'auto in Italia, e la cosa che mi fa morire è che questi hanno fatto un tale casino per cui non si riesce a capire se il bonus arriva, quando arriva, come me lo detraggo, insomma io trovo che sia una storia ridicola di un'Italia che vuole farsi da sola del male attraverso norme sempre più complicate. Interessante è l'altra questione che pone oggi Chiara Giannini, molto bello il pezzo sul giornale, di questo poliziotto che vede i rapinatori, che ha beccato, gli ha presi 60.000 euro che avevano di refurtiva, li ha fatti arrestare, sono stati processati per direttissima e sono fuori. E in una chat tra Pabiziotti dice, ma io che devo fare? Cioè questi sono andati là, rischio la vita, sono entrati in una casa con effrazione, hanno rubato delle cose, facciamo il processo per direttissima e poi me li trovo fuori. Ma cosa dobbiamo fare? Ecco, che cosa dobbiamo fare? Claudia, ho letto il giornale, fatto bene, e mi sembra una di quelle storie che danno il senso, non dell'impunità più che dell'insicurezza. Insicurezza c'è prima, l'impunità c'è dopo, ma le due cose sono ovviamente combaciano. Siri oggi sulla flat tax e ci dice sul sole 24 ore qual è la sua ipotesi di nuova flat tax per l'anno prossimo. Ciao belli, vediamo cosa succede l'anno prossimo e soprattutto devi disnescare 25 miliardi di clausole di salvaguardia, come c'è ogni anno, ma quest'anno è doppia rispetto all'anno scorso sull'IVA, poi devi trovare altri 20 miliardi secondo la riforma che vuol fare Siri, che è una riforma molto semplice, e cioè dice che le famiglie fino a 50.000 euro, oggi non sono le famiglie, sono le partite IVA che hanno avuto la flat tax, le partite IVA che arrivano fino a 65.000 euro. Lui dice che le famiglie che hanno un reddito familiare fino a 50.000 euro le facciamo una flat tax del 15%. Non so quanto sia conveniente per alcune famiglie perché c'è una no tax area, ma comunque si saranno fatti i calcoli e sarà comunque positivo. E in più, molto più interessante dal mio punto di vista, ci sarà una Ires sulle aziende ridotta dal 24 al 20%, aziende quindi con tasse più basse, molto più competitive, costa 20 miliardi, vedremo quanto ci sarà di verità e quanto Siri è una persona seria, le sue idee sono giuste, io le condivido, ma quando io leggo l'incipit del titolo del pezzo in cui dice abbiamo già ridotto le tasse, abbiamo già fatto la flat tax per un milione e mezzo di partite IVA, è falso, perché già esistevano i regimi agevolati a 15% ed erano per 800.000 persone, 900.000 persone, quindi bene che ha fatto e 300-400.000 persone di flat tax aggiuntiva grazie a questa norma, comunque positiva, per cui si è ampliata la rete di persone che hanno la flat tax. Ultimo pezzo che vi segnalo è quello di Luca Telese, su cui io non concordo affatto, perché Luca Telese dice finisce la carriera politica di una politica onesta, ma inesperta, cioè Giulia Sarti. E no Luca, no cazzo, non è una politica onesta ma inesperta, perché una politica che diventa Presidente della Commissione Giustizia della Camera e che per anni ci ha fatto una testa così, su onestà, 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 tutti in galera, tutti gli indiziati devono stare a casa, lo statuto è quello dei duri e puri, cioè quella che ci ha fatto una testa così, su onestà, 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 e no, io non posso vedere che lei fa dei bonifici, che poi lui dice, Luca, che non sono stati ritirati, ma erano semplicemente non coperti. Io non posso vedere che fa una denuncia al suo fidanzato dicendo che lui gli ha rubato i soldi quando è lei ad avergli dato il token per poter fare i prelievi quanto gli pareva. Io non posso pensare che l'inesperienza di una ragazza derivi dalla sua incapacità di avere un rapporto sentimentale serio con questo ragazzo rumeno piazzato in casa sua da Rocco Casalino. E dai, e non è possibile. Questo è Presidente della Commissione Giustizia. Grazie a quello che si decide in questa Commissione Giustizia possiamo più o meno far sì che ladri stiano in galera il caso dei poliziotti di prima o che innocenti ne siano fuori. Insomma, è Presidente di una delle commissioni chiave per questo Paese e non riesce ad avere un rapporto normale col suo fidanzato a cui gli dà, la metto nel caso di Telese, ma io non penso che sia soltanto questo, gli dà il token per fare i bonifici. I bonifici non si accorge che si potevano accorgere attraverso un estratto conto banale che ogni mese lei non ridava i soldi al Movimento 5 Stelle. Ridare i soldi al Movimento 5 Stelle è un affare tra di loro. A me non interessa. Se loro vogliono ridare i soldi tra di loro e poi darli alle aziende del microcredito, applauso, bravi, sono contento per voi. Non penso che ci sia nulla di male se qualcuno non lo fa. Il punto è vero che questa cosa dei bonifici che loro hanno fatto a loro stessi per istituire il loro stipendio ci hanno fatto una testa così dicendo che era il loro mantra. È vero che loro era il loro mantra anche non candidarsi più di due volte e si candideranno più di due volte. È vero che era il loro mantra avere uno statuto in cui prevedeva che non ci fossero indagati candidati o ancora iscritti e invece ci sono candidati e iscritti indagati. È vero che il loro mantra era restituire i soldi e molti di loro sono stati pizzicati a non restituire i soldi. Quindi insomma vale tutto il contrario di tutto. Ma la difesa della Sarti oggi politica onesta ma inesperta non regge. O comunque se è inesperta, cara Sarti, può anche essere che sia inesperta ed onesta. Diamo il beneficio del dubbio. Inesperti e onesti non sono quelli che hanno deciso dopo tutto il casino che non si era svelato ma che si sapeva che lei non aveva dato 23 mila euro di bonifici al proprio partito la rifanno presidente della Commissione Giustizia beh allora c'è un po' di mala fede in chi predica l'onestà per gli altri e razzola invece tolleranza per se stessi. Facciamo tolleranza per tutti invece che soltanto per i propri amici di partito. Direi che per oggi è tutto. Io vi do appuntamento con la zuppa come sempre domani e a prescindere da ciò che ha fatto io non rinversi già che sia presente la Camera dice giustamente qualcuno. Ciao!